Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su War Thunder Come sempre prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Siamo vicinissimi a quota 7000 iscritti Una quota davvero incredibile Se volete provare il gioco completamente gratuito, link in descrizione L'unità di oggi è il P51D20NA Questo caccia premium americano davvero fenomenale Adesso non ricordo bene Però penso che qualcuno me l'abbia chiesto nei commenti Comunque sia, eccolo qui Di cosa stiamo parlando? Come detto, caccia premium Abbiamo, siamo in era 4, livello di combattimento 4.7 Abbiamo esattamente 6 mitragliatrici, 12.7 browning, 2080 colpi 3 per ala, eccole qui Abbiamo poi una velocità massima di 710 km orari In realtà possiamo andare anche ad 800 per assurdo Però fate attenzione perché poi nelle virate potreste rompere qualcosina Ad altitudine 7620, quota massima 12700 Tempo di rotazione 22 secondi Tasso di salita 18.9 metri al secondo Abbiamo bisogno di 396 metri per poter decollare Questo bellissimo caccia può portare con sé anche un armamento secondario Incredibilmente abbiamo una scelta tra razzi, 6 razzi, oppure 2 bombe da 1000 Avete capito molto bene Io però lo vado a giocare senza armamento secondario perché preferisco giocarlo in quel modo Ragazzi, non perdiamo altro tempo Andiamo in partita per vedere un pochino il P51 in azione Il problema del bombardiere sopra di me è che è troppo alto Sarà almeno a 4000 metri Minimo 4000 metri E un bombardiere tedesco L'ho visto prima, il 264 purtroppo Quindi è anche pericoloso Adesso non lo sto vedendo più Però ci sta, tranquilli, eccolo appunto Guardavo dal lato opposto Dobbiamo un attimo rivedere il nostro attacco Quindi è probabile che andrò su un 190 Oppure su un 190 C'è qualcuno che mi dà una mano? Sì, ok, vieni dai, vieni da questa parte Il G55 Ok Andiamo sul Su qualcuno basso Ovviamente No, 55 non venire da me Fai finta che non ci sono Io non ci sono per te Ok, mi sta ignorando al momento Abbiamo il 109 Abbiamo un 190 Io il 190 vorrei un attimo Cercare di colpire Ok, la zona sembra pulita Arriva anche il 109 Però questa cosa mi lascia un po' perplesso Perché Eh no, arriva davvero Veramente arriva? Allora io salgo Ho la velocità, io salgo Eh sì, ok Hai capito che non puoi Leviamo il web Facciamo una bella Cerchiamo di puntarlo Perfetto Una bella scarica di colpi Dovrebbe risolvere la situazione Direi molto bene Direi molto male Ok, vai I rumori ragazzi Mi fanno impazzire Sono veramente fatti Sali, sali, sali Sali Non alla velocità forse Il 190 What? Da dove è uscito quello là? Ok Ok, ci siamo fatti Molto male Colpo Sta salendo Eh, dobbiamo seguirlo Tocca a noi Tocca a noi Critico Ala E non abbiamo più velocità Siamo Siamo completamente Senza velocità Adesso le cose si fanno a complicare Non so chi viene Aspetta perché ho dei problemi Molto seri Arriva il 190 Che attacca E dai Ma il 190 Perché non si vede? Eh, adesso Ha vita facilissima Contro di noi Molto facile Perdita carburante Lasciamo stare Eh, ragazzi Lo so che il motore soffre Ma A questo punto Proviamo a A beccare il 109 No Eh, eh Dai Ma anche il 47 Ma da dove scende? Scusami Eh E prima il 190 Poi il 47 Poi il 109 Prima il 109 Nessuno dei miei alleati viene Ma perché una sfiga del genere Dico io Ecco perché Non arrivava nessuno Sono tutti completamente morti E io lo sapevo Che doveva succedere Una cosa del genere Perché ovviamente In mezzo alle nuvole Tu il nemico Lo vedi Praticamente all'ultimo Stavo sentendo Da un po' di tempo Dei rumori E infatti Si stanno concretizzando In un 190 Davanti a noi E poi altri giocatori Che ci sono Ci sono È inutile fare finti tonti Perché ci sono Colpo Fuoco Fuoco Vai Vamos E per favore Dammi la kill Grazie Molto gentile Ha spento l'incendio What? Veramente? Cioè ma l'ha spento subito In realtà Vabbè Sì Ok Va bene Bravo Pure Vedi Adesso si prende anche Il lusso di spararmi Dopo essere sopravvissuto Non so come All'incendio La solita fortuna Guarda Ma stiamo Stiamo scherzando Loop C'è qualcuno dietro di me Vero? C'è qualcuno dietro Dimmelo No ma perché C'è il 190 Che io sto Ho dato fuoco al 190 Adesso lui si prende il lusso Anche di volermi attaccare Capito? E ha anche un critico Quel caccia Ma stiamo scherzando? No non ce la fa Non ha l'angolo Più o meno Qualcuno mi dà Una mano per cortesia Non ho più velocità Quanti so No 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 What? Flap Non ho più velocità Ragazzi Non ho più velocità Sono 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 morto Sono morto Morto a breve Si va a schiantare? Io non ci voglio credere Quello che sta succedendo È morto È morto È morto È morto È morto Però ne abbiamo ancora uno Il 109 Si Si è andato a schiantare Non ci voglio credere Signori Cosa è successo? È successo veramente di tutto Domanda retorica Che Alla quale do una risposta Ben decisa Brevemente Abbiamo dato fuoco a un 190 Ha spento l'incendio Siamo scesi Abbiamo provato a spararlo L'abbiamo criticato Abbiamo dato fuoco a un altro aereo Abbiamo fatto la kill Erano tutti giù E Continuava a seguirmi Continuava a seguirmi nonostante I danni riportati Ho subito dei danni Abbastanza Importanti Perché comunque Vedete che l'ala sinistra Ha subito veramente Molte penetrazioni Poi abbiamo Una perdita di olio Che a lungo andare Ovviamente Andrà ad aumentare La mia Temperatura dell'acqua E di conseguenza Perderò il No non posso lasciarlo però Non posso lasciare Un compagno da solo Non ho velocità però Non posso lasciarlo solo Dai Il P47 Io rischio tutto Rischio tutto Se va Se va Bene Altrimenti Abbiamo Vedete una velocità Perché il motore Ha sofferto Molto Un frontale Potrei anche accettarlo Considerando le condizioni Del mio La gloria eterna La gloria eterna Signori E' così che si gioca Vamos Un'altra kill 3 kill Abbiamo subito danni davvero Incredibili L'aereo però Incredibilmente funziona Il motore Vedete Il motore E' ancora funzionante Quindi sono Anche Volendo Le mitragliatrici Tutto funziona Alla perfezione Tranne la perdita di carburante Di olio Che mi costringono Adesso a tornare Alla base Siamo a 3 kill E' rimasto un solo giocatore Nemico Una partita da Collezionare Da rivedere 100 volte Eccezionale Il P51 Veramente Incredibile Quello che ho riuscito a fare Il carrello Penso che Non sia stato danneggiato Vedete Olio surriscaldato Ma ormai siamo Vicinissimi Alla base Strutturalmente parlando Vediamo anche la visuale Del Del pilota Che di certo Non lascia Dubbio Al Diciamo Al pensiero Siamo stati Trivellati di colpi Ma anche il muso Guarda Eccezionale Il P51 Ancora una volta Davvero fantastico E' il momento Dell'atterraggio Perché Dobbiamo assolutamente Tornare alla base 350 km La pista Non è molto grande Quindi cercherò Di fare un atterraggio Con i fiocchi Via il carrello Carrello danneggiato Carrello danneggiato Ahah Veramente E' serio No Potrei continuare a volare Volendo O proviamo un atterraggio D'emergenza Effettivamente Lì manca il carrello Oh cavolo Vai Siamo anche atterrati Senza carrello Signori Cosa volete di più Tra 30 secondi Il nostro Aereo Sarà come nuovo Effettivamente Quando ho dato Un'occhiata Ho visto solo Il carrello Di destra Ma quello Di sinistra Era totalmente Distrutto Atterraggio D'emergenza Riuscito In pieno E' stata una partita Davvero Incredibile Porto a casa La bellezza Di Allora C'è anche un Trofeo di battaglia Che mi da 90.000 Dammi 90.000 Sì 90.000 leoni Davvero fantastici Mi servono leoni Nella maniera Più assoluta Portiamo a casa Quindi 82 Più 90 7.500 Per quanto riguarda L'esperienza Successiva Stemma Del 68esimo Fighter Interceptor Squadron Fantastico Vendicatore Salvatore Di caccia Doppio Colpo Il video Termina qui Le considerazioni finali Ragazzi sul P51 Sono estremamente Positive Come avete visto E' un aereo Davvero divertente Da utilizzare Le mitragliatrici Da 12.7 Con oltre 2000 colpi Vi daranno Molte possibilità Di colpire il nemico Soprattutto se avete Una brutta mira Come la mia Voi sparate E le 12.7 Faranno il loro Sporco lavoro Abbiamo poi Efficacia Dall'era 1 All'era 5 Quindi è un aereo Che si presta anche A sbloccare La maggior parte Del Tech 3 Americano Un tech 3 Davvero molto divertente Per quanto mi riguarda Soprattutto con i bombardieri B-17 Il B-29 E tante altre unità Premio 498 Per quanto riguarda L'esperienza 780 Per quanto riguarda I leoni Costo massimo Della riparazione Abbiamo solo 3130 Leoni Davvero un aereo Fantastico Quindi io Consiglio L'acquisto Come detto Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Grazie per la visione!